Hai presente quel bel colore rosso della ciliegia matura? Per certi versi è ancora meglio quel caratteristico rosso scuro molto più intenso, spesso con sfumature che possono tendere al nero tipico del durone. Ecco, in entrambi i casi è merito delle antocianine, sostanze colorate che servono alla pianta per proteggersi dai raggi ultravioletti del sole, ma pensa al paradosso. Noi esseri umani se ci esponiamo eccessivamente al sole rischiamo muschioni e, ben più grave, alterazioni del DNA che possono predisporci allo sviluppo di malattie poco simpatiche. Mentre le piante, al contrario, cercano attivamente i raggi solari per necessità, come faranno a proteggere il loro DNA dal sole? Per non parlare dell'ossigeno, l'ossigeno è vitale per la maggior parte degli organismi, ma di nuovo paradossalmente è in grado di danneggiare in modo grave numerose molecole perché si trasforma facilmente nelle cosiddette specie reattive dell'ossigeno che, come schegge impazzite, rovinano tutto ciò che gli capita a tiro. Ma... non stavamo parlando delle ciliegie? Sì, ci arrivo. La natura, nella sua tanto elegante quanto pragmatica bellezza, ha trovato un'unica soluzione a entrambe queste minacce, gli antiossidanti. Le piante utilizzano antiossidanti per difendersi dal sole e dalle specie reattive dell'ossigeno prodotte durante la fotosintesi e gli anitociani responsabili del colore rosso delle ciliegie ne sono un fulgido esempio, così come la vitamina C, la vitamina A, anche loro presenti nelle ciliegie. Come i folati, il corpo umano è quotidianamente esposto a queste stesse identiche minacce ossidanti e sì, anche noi abbiamo sviluppato un buon sistema antiossidante, ma tutt'altro che infallibile ed è probabilmente perché da sempre abbiamo demandato parte di questa responsabilità alla dieta che ci permette di beneficiare degli antiossidanti prodotti dalle piante. Pensa, ci fidiamo così tanto dell'apporto di antiossidanti attraverso l'alimentazione da centinaia di migliaia di anni che abbiamo addirittura perso la capacità di produrre la vitamina C che ci serve essenziale per la sopravvivenza e che dobbiamo quindi introdurre ogni giorno con il cibo. Ma qual è il problema, dico io, quando possiamo farlo con delizie estive, come le ciliegie? Ora, se proprio devo essere sincero, di vitamina C non ce n'è tantissimo in termini assoluti nelle ciliegie e non ci sono nemmeno micronutrienti che specchino sugli altri per quantità, un po' di potassio, un po' di vitamine del gruppo B e vari minerali, ma è importante una volta di più comprendere che non dobbiamo mangiare quello specifico alimento perché contiene quella specifica vitamina. Al contrario, dobbiamo essere bravi a costruire sulla varietà della dieta il nostro benessere presente ma soprattutto futuro. La ciliegia, per esempio, è considerata un alimento intenso di nutrienti con un contenuto calorico peraltro relativamente basso, ma su questo ci torniamo a breve, e quantità significative di importanti nutrienti e componenti alimentari bioattivi, tra cui fibre, polifenoli, carotenoidi, vitamina C, potassio, ma anche triptofano, serotonina e melatonina, e non dovrebbe quindi stupirti scoprire come sia stata collegata alla riduzione del rischio di diverse condizioni infiammatorie e croniche, tra cui artrite, malattie cardiovascolari, diabete e perfino tumori. Ci sono poi prove suggestive del fatto che le ciliegie possano migliorare il sonno, la funzione cognitiva, perfino la capacità di recupero dal dolore dopo un'intensa attività fisica, tutti, tutti effetti tipicamente legati alle proprietà antiossidanti e antinfiammatori, degli antociani e degli altri composti fenolici presenti. Ecco perché è così importante non limitarsi mai a valutare un frutto, ma più in generale un ortaggio, sulla base del semplice contenuto di vitamine e minerali, perché la ciliegia è un classico esempio di come troppo spesso questa visione sarebbe limitante, riduttiva, non tenendo conto dei ben più ampi benefici che la ricchezza dei fitocomplessi presenti può garantire attraverso effetti concreti sulla nostra salute. Tornando alle ciliegie, queste apportano circa 50 calorie per 100 grammi, che diventano quindi circa una settantina per una porzione e che ci lasciano perciò spazio per tutte le altre delizie estive, come pesca, il bicocche, melone e anguria. Queste 50 calorie derivano quasi esclusivamente da zuccheri, come sempre succede con la frutta, ma grazie alla bassa densità energetica, alla presenza di fibra, oltre al fatto che si tratta di una rilevante percentuale di fruttosio. Le ciliegie sono una scelta eccellente anche per chi deve stare attento alla glicemia. L'indice glicemico è infatti molto basso, poco sopra i 20. Poche calorie, delicate verso la glicemia per non parlare delle incantevole fioriture dell'albero. Cosa avranno da nascondere? Qualche malvagio difetto? Qualche controindicazione nascosta? Guarda, devo proprio sforzarmi per trovare qualcosa. Toh, i noccioli di ciliegia contengono amigdalina, una sostanza chimica che rilascia il pericoloso acido cianidrico, ma a meno che tu non abbia l'abitudine di masticarli e romperli sistematicamente, il problema non si pone nemmeno, e anche se ti capitasse ogni tanto di ingoiarne qualcuno intero, non preoccuparti, uscirebbe talquale dall'uscita di servizio dopo un po', ancora intero, che è poi il motivo per cui le piante ci offrono, evolutivamente parlando, queste delizie. Nessun problema in caso di colesterolo, nessun problema in caso di pressione alta. Insomma, a meno di non avere ipersensibilità individuali come allergie, non c'è davvero ragione di privarsene. Ovviamente questo non significa un liberi tutti a mangiarsene un chilo al giorno per tutta quanta la stagione, ma soprattutto se sei in salute, non ci sono particolari controindicazioni, nemmeno a concedersi qualche occasionale scorpacciata se magari avessi la fortuna di avere libero accesso all'albero. Concluiamo con una nota pratica. Le ciliegie sono frutti non climaterici, quindi una volta raccolte non maturano più. Quando le compri è quindi importante sceglierle con cura, con attenzione, assicurandoti che si presentino già di un bel colore rosso intenso. E infine, aspetto che ho imparato solo pochi giorni fa grazie a un video del Dottor Paci che ti invito a seguire, per individuare quelle più fresche perché appena raccolte si deve imparare a osservare il picciolo che deve presentarsi verde e ancora ben flessibile. Se non ti avessi ancora annoiato abbastanza, qui avevo parlato del melone, qui dell'anguria, ma soprattutto lascia che ti dica grazie, grazie, grazie di vero cuore per la tua attenzione e la tua fiducia. Ricorda però che uno sconosciuto su internet non può e soprattutto non deve mai sostituire né il tuo medico curante né il tuo nutrizionista, perché solo loro possono conoscere, quindi tenere conto davvero delle tue specifiche di esigenza. Grazie ancora, ciao!